Sei un imprenditore? Vorresti ricevere più contatti dal sito web? Vorresti controllare meglio il funzionamento della tua azienda? Ti hanno parlato di VoIP e di Unified Communication ma non hai ben capito quali sono i vantaggi? Non è colpa tua. La tecnologia va molto veloce ed è difficile per i non addetti ai lavori comprenderla subito e sfruttarla nel modo adeguato. Eppure oggi esistono tecnologie che ti fanno risparmiare molti soldi ma soprattutto facilitano la comunicazione e i processi di business. Si tratta dell'evoluzione del centralino telefonico che diventa anche un sistema per inviarsi messaggi rapidi ed organizzare delle videoconferenze, condividere documenti online e attirare più clienti dal sito web. Tutto integrato senza installazioni istantanee. Per fartelo scoprire abbiamo creato un'area informativa alla quale puoi accedere gratis e subito. Accedi ora ed invita i tuoi tecnici per valutare meglio la soluzione.